Forlì è una città in fermento in attesa del Presidente Napolitano, accolto qui per festeggiare insieme ai cittadini forlivesi il 150esimo anno della Repubblica. Un festeggiamento che assume maggiore valore dopo l'indicazione che il primo cittadino di Forlì, Balsani, ha dato ai forlivesi. Quello di mostrare il lato patriottico di ognuno di noi e di apporre alle proprie finestre il tricolore. Dopo molti anni torna un Presidente a Forlì, il fatto che torni nell'anno del 150esimo dall'Unità d'Italia e in una città dalla tradizione risorgimentale come Forlì è per noi un motivo di grande orgoglio perché significa un riconoscimento che viene tributato non soltanto alla nostra città che viene onorata dalla presenza del Presidente ma anche la sua storia. Cosa si aspetta e cosa chiede ai forlivesi che dovranno accogliere il Presidente? Beh ai forlivesi chiedo di venire in piazza a vedere il Presidente che alle 9 e mezzo porterà una colonna di fiori al monumento di Saffi poi ci sarà un maxischermo per seguire quello che accade in teatro cioè un ricordo appunto del 150esimo con la presenza del Capo dello Stato e io chiedo anche ai forlivesi di esporre la bandiera tricolore il giorno 7 che è il giorno del tricolore che segnala la nascita del tricolore nel nostro paese e anche il giorno 8 quando ci sarà il Presidente della Repubblica cerchiamo di essere tutti presenti di far sentire che questa è una città patriottica dalla forte tradizione nazionale che quindi si riconosce nella Repubblica e nelle sue istituzioni. Attualmente con i livelli di preparazione come siamo arrivati? Qual è il punto? Il punto è molto avanzato devo dire che c'è stata una forte sintonia fra tutte le istituzioni particolarmente fra il Comune e la Prefettura ma non solo anche ovviamente con l'ufficio cerimoniale del Quirinale quindi siamo ormai pronti io andrò anche a Reggio Emilia la mattina del 7 perché lì ci sarà la grande celebrazione inizieranno le celebrazioni del 150esimo con il ricordo del primo tricolore italiano e poi proseguiremo appunto nella nostra città nel corso del pomeriggio.